Tonifichiamo le nostre gambe! Ciao Corin, in questo video bonus alleniamo le gambe. Facciamo insieme Two Front Two Side Leg Lift Knee Kicks Inner Tight Sculpture And Single Leg Romanian Dead Lift Io in questo esercizio ho avuto problemi di equilibrio per via del pavimento che era morbido e non rigido. Tu mantieni stretto il tuo core e guarda un punto dritto davanti a te. Imposta l'interval timer con 30 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa e 16 round e alleniamoci insieme. Due su Avanti Cerchiamo di tenere, di fare un movimento controllato. Forza! Che andiamo a lavorare interno e esterno coscia le nostre gambe. Brava! Non spingere sulle mani. Cambio lato. Pronta, via! Piede a martello. Vai su! Dai, devi sentire lavorare. Due da una parte, due dall'altra. La gamba deve essere sempre controllata come movimento. Cambio esercizio. Adesso spingo. Spingo. Controlla il movimento, piede sempre a martello. Devi sentire qui lavorare anche il gluteo. Questa parte, dietro. Forza! Spingo. Dai, resisti. Bravissima! Dai, che mancano pochi secondi. Cambio gamba. Senti le gambe bruciare. Inizia a sentirle. Siamo pronte? Via! Forza! Anche qui, movimento controllato. Devi sentire i muscoli che iniziano a bruciare. Così, lavori. Brava! Spingi! Ci siamo quasi! Perfetto! Ora lavoriamo un po' all'interno coscia. Questa posizione. Sempre piede a martello. Su, lavoro questo. L'interno coscia. Su. Su. Dai, resisti. Spingi su con la gamba. Bravissima! Dai, che mancano pochi secondi. Cambio gamba. Due. Uno. Cambio! Ci siamo! Su! Su con l'altra. Mi raccomando, spingi solo con le gambe. mai con le braccia. Bravissima! Ricordati di respirare. Dai, che ci siamo quasi. Su. Senti che lavora i miei muscoli. Ok. Altro esercizio. punto fisso davanti a te. La gamba dritta. Piede sempre a martello. Sguardo verso il basso. Controlla il movimento. Controlla. Indominale contratto. Cambio gamba ora. Pronta via. 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 Dai. Controlla il movimento. L'altro ginocchio deve essere leggermente piegato. Via. Via. E si rinizia tutto da capo. Primo esercizio. Via. Dai. Che tonifichiamo queste gambe. Lo so che sei contenta, bravissima, non mollare, dai pochi secondi, controlla il movimento, più su che puoi la gamba e cambio lato. Forza, piede sempre a martello, mi raccomando, addominale contratto, sulla gamba, senti lavorare i tuoi muscoli, vero? Bravissima, dai che stai andando bene, cambio esercizio, ti ricordi? Ora calci, spingiamo, come se dessimo un calcio, spingi, bravissima, senti anche il gluteo che lavora? Spingi, piede sempre a martello, cambio, e via! Respira, respira, benissimo, dai dai dai, non mollare anche se brucia, continua, dai mancano pochi secondi, cambio esercizio. Interno coscia, apriamo, su! Forza, su questa gamba, andiamo a tonificare. Dai che ci siamo quasi, pronta per il cambio, cambio! Lavora l'altra gamba, spingo su, forza! Dai! Pochi secondi alla fine, lo so che brucia, ma continua! Piede sempre a martello, due secondi, cambio esercizio, dai l'ultimo esercizio! Prende sempre a mattino, avanti, spettacolo, dai l'ultimo esercizio! Tralla il movimento! Forza! cambio gamba dai che è l'ultimo l'ultimo sforzo bravissima abbiamo finito allora ti sei scaldata? mi raccomando iscriviti al canale youtube e clicca mi piace sulla pagina facebook e se ti piaciuto il video metti un pollice in su ciao